Namaste! Oggi andiamo a fare degli esercizi per potenziare i colpacci e la parte bassa, quindi le gambe alla base d'appoggio i piedi. Intanto ci mettiamo in una comoda posizione, quindi sollevando le dita e appoggiando le dita dei piedi, solleviamo poi anche i talloni, quindi spostiamo il peso un po' sugli avampiedi e un po' sulla parte posteriore, per sentire e percepire bene la nostra base d'appoggio, sulla quale ci concentreremo in questa breve lezione di esercizi però molto efficaci, che rafforzano anche tutti i muscoli che contengono le caviglie, quindi servono anche per prevenire le distorsioni e per tutto ciò che riguarda l'afforzamento dei piedi della base d'appoggio. Andiamo anche a fare un piccolo stretch dei metatarsi, quindi allunghiamo, ovviamente con calma, senza forzare. Questo esercizio scioglie tante tensioni, sul lungo tutta la gamba fino in alto, quindi anche alcuni doloretti alle ginocchia possono passare attraverso la flessibilità delle dita, dipende dalle patasi. E poi da qua andiamo a fare un piccolo esercizio spingendo in su bene i talloni e appoggiandone a terra uno alla volta, ma non cascandoci sopra col peso, ma controllando sia la salita che l'appoggio. Questo aiuta anche a facilitare il torno venoso, quindi un esercizio che bisognerebbe fare ogni giorno, anche mentre si è in posizione in piedi per lungo tempo. E ora andiamo proprio a fare l'esercizio con entrambi i talloni, con gli annuci e le capiglie unite, ispirando apri le braccia e ispirando ritorna. Il cosiddetto movimento del volo del falco, come immaginare di essere un falco che si leva in volo sulla vetta della montagna e poi ritorna. Ancora tre volte, ovviamente ognuno per quanto riesce, anche salendo meno, non importa quanto riusciamo a salire. E poi ritorna all'ascolto, un istante, degli effetti residui. Riapri un po' le due gambe e portami indietro una. Scendi in un piccolo affondo e risali, spingendo proprio in su anche il tallone, ispirando. Scendi, ispirando, ritorna su. Trovando il tuo centro, il tuo equilibrio e la tua stabilità. fino poi ad appoggiare il tallone a terra e portare il cocci leggermente verso il basso, come ad allungare tutta la gamba e anche il polpaccio. Se vuoi, puoi portare anche sulle braccia nella posa di Virabhadrasana. E poi ritorna, appoggia, allungati ovviamente fin dove arrivi. e ritorna. E da qua, cambio gamba, affondo, spingo in su bene anche il tallone. Quindi lavoro ancora sul polpaccio. Fino poi ad appoggiarlo a terra e allungarlo. Portare leggermente verso il basso il bacino, ovviamente, quanto si riesce. Braccia su, Virabhadrasana 1. Appoggio le mani sulla coscia e vengo ad allungare. Respiro in modo lento e profondo. E poi ritorno in avanti. Così abbiamo anche allungato un po'. Ritorna a sciogliere anche le caviglie. E poi andiamo a fare un esercizio con le gambe divaricate, le punte dei piedi leggermente più aperte rispetto ai talloni, in modo da allineare bene l'articolazione dei ginocchi. Ricorda che le anche devono essere ben aperte, quindi mai avere il ginocchio più chiuso rispetto alle punte dei piedi. Piuttosto apri meno le gambe, non divaricare meno. Poi, una volta presa la posizione del cavaliere, solleva un tallone e poi l'altro. Se ce la fai anche entrambi. Appoggia e sollevali anche di poco. Questo è duro, eh? Quindi ovviamente con calma. E poi di nuovo, alternati. E poi appongerai una mano a terra, l'altra gamba la allunghi un attimino e sollevi la punta del piede. Cambio. Ritorna e stendi entrambe le gambe. Appoggia le mani a terra oppure ti prendi dietro alle caviglie con le mani e ti allunghi. Riappoggia una mano e l'altra. Ripiega le gambe, srotola la schiena, risali pian piano. E ora da qua, di nuovo appoggia il tallone a terra, allunga il polpaccio. Da un lato e poi dall'altro. E ritorna al centro. Scuotili un po', scuoti, scuoti. Se vuoi appoggiati al muro per mantenere meglio l'equilibrio e ruota la caviglia. In un senso, nell'altro e l'altra. Ora, hai fatto una bellissima sequenza che già si dovrebbe sentire questi esercizi siccome si fanno poco o si sentono tanto. Puoi proseguire, o ripetendo la stessa sequenza, ma ti consiglio di più di cercare nei miei video quello del massaggio al piede. Proprio l'automassaggio plantare. Automassaggio al piede. Tu cerca nella lente di ricerca e vedrai che lo trovi. Ed è ottimo per sciogliere sia le caviglie che le dita dei piedi, tutte le articolazioni della parte bassa. Ed è proprio utilissimo per ripristinare l'energia della tua base d'appoggio che è veramente molto importante e spesso trascuriamo. Leggi tutte le descrizioni sotto al video e condividi questi esercizi con chi vuoi. NAMASTE